Fioriere e diverte, piante ornamentali staccate dal muro e gettate sul marciapiede, bidoni e cassonetti dell'immondizia caricati sulle auto dei condomini parcheggiate sotto casa, le antenne di alcuni veicoli fatti a pezzi. E questo è il bilancio dei van degli entrati in azione la notte scorsa in corso Umberto d'Avellino. Il raid è avvenuto probabilmente dopo le due, quando Antonio Inglesias ha abbassato la sala cinesca del suo locale sulla coda dell'isola pedonale del venerdì, al centro storico. Nel mirino dei balordi sono finiti soprattutto gli arredi sistemati da commercianti per abbellire e rendere più dignitosa l'area dove è situato il suo ristorante Antonio al Mexicano nei pressi della fontana di Bellerofonte. Stamane, allertati da residenti e commercianti, sono giunti sul posto gli agenti delle volanti di polizia. Le sequenze della bravata potrebbero essere state riprese dalle telecamere di videosoveglianza installate nella zona, filmati utili per identificare gli autori del raid. Intanto i cittadini, anche sulla scorta di quest'ultimo episodio, chiedono maggiori controlli lungo una strada che soprattutto di notte andrebbe meglio vigilata. Alcuni mesi fa, ricordiamo, vennero cosparsi sulle maniglie di un negozio secchi di letame. Amareggiato e deluso Antonio Inglesias, che personalmente si impegna a rendere più decorosa la zona, come ha scritto su un cartello dove invita i possessori di cani a essere più civili.